Il governo e la maggioranza regionale sono come Attila, dove passano loro non cresce più neanche un filo d'erba. Il commento drastico arriva da un ex consigliere regionale, Domenico Dilisa. Sembrano tutti presi dalla furia di cancellare le scelte del passato, nonostante in tale passato fossero complici o conniventi e così facendo distruggono anche tutto ciò che di buono e sensato era stato fatto. Una di queste, qui Dilisa veste i panni non solo del politico ma anche del geologo, l'atto di riorganizzazione delle strutture dirigenziali della giunta regionale con cui si stravolge la struttura dirigenziale del servizio tecnico sismico e geologico del quarto dipartimento. Una decisione che ha provocato l'immediata reazione dell'ordine dei geologi del Molise, che ha fatto notare il controsenso. Da una parte la regione proclama la necessità di dedicare maggiore attenzione al territorio e di investire più risorse nella prevenzione, di cui si parla tanto subito dopo la sciagura di turno, dall'altra nella pratica fa il contrario. L'approvazione di una delibera che riporta il Molise indietro di 30 anni. In risposta il consigliere delegato alla protezione civile regionale ha sostenuto che non siamo di fronte a nessun depotenziamento. L'ufficio geologico e sismico è semplicemente confluito nella protezione civile e ciò permetterà di affrontare con uniformità e immediatezza ogni situazione di prevenzione d'emergenza. Dilisa allora incalza, ma la protezione civile lo sa quali sono i suoi veri compiti e quali invece quelli di un geologo e fa un esempio, una fuga di materiale tossico da uno stabilimento e competenza della protezione civile, ma non certo di un geologo. Prevenire il rischio geologico e sismico, pianificare e gestire il territorio è compito di un geologo e non della protezione civile. La situazione che si verrà a creare dovrà probabilmente servire ad economizzare i costi, ma in questo momento di grandi e continui terremoti nell'Italia centrale, dopo San Giuliano di Puglia, dopo l'Aquila, in un Molise ad elevato rischio sismico e per il 50% interessato da dissestro idrogeologico, invece di chiamare altri geologi in regione li si manda via o li si mette a fare altro. Forse, conclude Dilisa, prima di fare una scelta così irresponsabile e sbagliata, la regione avrebbe dovuto confrontarsi con chi ha fatto nascere e ha organizzato l'ufficio e poi il servizio geologico regionale, ma in Molise ormai sembra che buonsenso e umiltà siano merce sempre più rara.